Grillo non era un candidato e non è un eletto all'interno della Camera dei Deputati o del Senato della Repubblica. Vedo altre persone all'interno di quest'Aula che sono indagate e per cui non si dice assolutamente nulla. Pensiamo ai casi reali e ai problemi reali di questa Italia, non a qualche registro degli indagati. Pensiamo ad esempio, io vengo dal Friuli Venezia Giulia, al caso Electrolux. Pensiamo che ci sono dei cittadini, delle persone, degli operatori e degli operai che andranno a casa per colpa di un esecutivo che non sa fare il proprio mestiere.